Siamo sempre al Central Lane, trovavamo lì giù, ma siamo saliti, vendo la metro, questo palazzo di avvocati, mi ricordo dove è molto particolare, un tipo, in touch. Molto bello, è viaggio, spazzano tutti i giorni in un'altra motel. Prudential Insurance, è scritto un'assicurazione, Prudential è un'assicurazione, ripete che ero un palazzo per l'assicurazione. Quelli sono i bagni pubblici, vai giù, quelli in una volta, vedo se funzionano ancora. E chiudo, chiudo, finito. Vado a casa, prendo la metro, la busta dove si mette, la box, dove usano le lettere. Stiamo avvicinando un altro edificio molto vecchio, particolare. Uno dei più vecchi a Londra, insomma. Lo dei più vecchi a Londra, insomma. In particolare il cortile, ci piace proprio questo palazzo, questa casa. Da tutto, è il momento, goodbye.